I'm going there to see my father Erick? Chi? A cantare? Il militare che cantava? Chi altro dovrebbe essere? Ma non è che? Eh, ho... Ma anche se... Magari a un certo punto lo smettere prima Eh, lo so, però me l'ho preso solo, ho capito Ben tornati sul canale Insanity Boys Siamo qui per la recensione di 1917 Perchè non l'avesse capito dalla canzone Ed era una richiesta... E per chi non sapesse leggere Esatto, e... Ma era una richiesta quella che avevano fatto in militare Eh? E ho deciso questa e rosa rossa per te Ho deciso questa però perchè è più nelle mie corde Perchè ero la cantina del film di Giovanni Giacomo Esatto, bravissimo Allora, ehm... Qual è la trama di 1917? Due punti, molto semplici Due, ehm... Militari Eh... Uno... Due caporaie della realtà Che... E gli viene, ehm... Dato il compito di, ehm... Consegnare una lettera Dal generale stesso Eh... Da consegnare al... A un battaglione di non... Di non attaccare Perchè... Eh... I soldati tedeschi avevano teso una trappola E così facendo, eh... Eh... Salverebbero milleseicento militari Tra cui il fratello di, eh... Di uno di due caporali Bene... Semplice... Diretto Allora... Cominciamo? Dire che il film mi è piaciuto è molto molto riduttivo Io lo ritengo uno dei film più belli, eh... Dell'anno... Eh... Ritengo che le dieci candidature agli Oscar ci siano tutte Ritengo che potrebbero portarne a casa più di cinque E vi dico anche quali dopo Anzi, ve li dico adesso Potrebbero portare a casa mia regia Salvo grandi sorprese Fotografia Fotografia Montaggio Montaggio se non vince mi sparo Film Potrebbe vincere assolutamente Non dico quelli che vince Quelli che potrebbe vincere Sonoro E Mior Sonoro Questi... A grandi linee anche Mior Montaggio Sonoro potrebbe vincere Ehm... Ecco... Questi sono secondo me le candidature agli Oscar che potrebbe portare a casa Mior film è difficile Mior regia quest'anno si danno i pugni in bocca Che tra... Tarantino Sam Mendes Todd Phillips Scorsese Quest'anno veramente c'è da massacrarsi Però... Io ritengo che Sam Mendes Abbia portato... Abbia fatto il suo miglior film Sam Mendes Non ha fatto un sacco di film Però questo sicuramente è il migliore Tra tutti quelli che ha fatto Da un punto di vista registico Cioè tecnico Sicuramente è il migliore Anche perché io sono sicuro che tra Nessuno vuoi esagerare Ma tra 5 anni 6-7 anni Ci ricorderemo di questo film qua Vi faccio un esempio Io non ce l'ho con questo film Però prendo sempre questo esempio Moonlight Il film che ha vinto agli Oscar due anni fa Io... Adesso Che sono passati 2-3 anni Non me lo ricordo a pieno L'ho visto molto Cioè l'ho visto come deve essere visto un film Non è un film che mi ha lasciato È un film Strepitoso Ma non è un film che mi ha lasciato tanto Questo film qua invece è un film che non me lo ricorderò Tantissimo Per cosa? Per come è raccontato Ma soprattutto per come è girato Questo film è interamente In piano sequenza Cioè... Vi faccio un esempio Che non è così Provai a farvi capire Sam Mendes fa Ciacca all'inizio Non stacca tutta la fine Ciacca alla fine Questo film è tutta una scena Tutta una scena intera Senza stacchi Cioè... Sono due stacchi Che... Tramite degli effetti speciali Dei effetti visivi Vengono comunque messi come piano sequenza Cioè non si vede che ce lo stacco Però... Ti fa intuire che in quella scena lì Il regista ha staccato Però... Falso piano sequenza In quella scena lì Però comunque piano sequenza Quindi già per questo La regia... L'Oscar alla regia è suo In più il film è già... Epico di suo Perché è una cosa mai fatta Tutto piano sequenza Cioè abbiamo visto Quarto Potere C'erano... Scene lunghe in piena sequenza Ma... Non era tutto in piena sequenza Questa secondo me è una... Cioè secondo me è una cosa mai fatta Un film di un'ora e cinquantanove Tutto in piena sequenza è una cosa mai fatta In più... Roger Dickens Ehm... Direttore della fotografia Ha fatto una roba... Anomala Ma... Sono... Secondo me... Due, tre... Sequenze, inquadrature Che lì ha vinto la fotografia Ovvero... Quando escono William e Tom Dalla... Dalla loro... Dalla loro trincea Per andare nel territorio neutro Ex tedesco All'inizio proprio quando sono i cavalli morti I corvi, acqua Il riflesso dell'acqua Perché c'è una lì è pazzesca Lì... Poi... Ehm... Quando vanno nella... 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 Non vallata... Quando ci sono tutti i proiettili esplosi Quando sono appena usciti dalla... Dal bunker Sì... Dalla trincea Esatto... Che ha cavallato tutto Che c'è un po' di tutti i proiettili E le cose esplose lì E soprattutto Quando... Ehm... William esce dalla casa Dove era stato sparato in testa Con il metto Ci sono i tedeschi Che bruciano le case Che danno fuoco alle case E lanciano i razzi di segnalazione lì Ragazzi... E quando c'è William che scappa Dai tedeschi che lo stanno sparando lì Che ci sono tutti quei cambi di ombre Quei cambi di luce Ehm... Che sembra fuochi d'artificio Ma in realtà non sono fuoco dell'artificio Sono case che bruciano E... E... Lì... Ha vinto Quella scena lì Ehm... Dickens ha vinto l'Oscar Dickens che tra l'altro Ha vinto l'Oscar Ehm... Due anni fa Per Blade Runner E ha stato candidato un miliardo di volte Per esempio Faccio dei esempi Sicario Prisoner Skyfall Il Grinta Fargo Ehm... Tutti i film dove lui è stato candidato Alla regia E scusate Alla fotografia Non ha vinto Ha vinto due anni fa Per Blade Runner Presumo Vincerà anche quest'anno Per... 1917 Perché ci sono film Dove la fotografia è molto bella Per esempio Joker Sì ma... Però... Contrescene ha vinto Cioè... Adesso... Non sto scherzando Per me... Joker Ha una fotografia mostruosa E pensate questo film Per me batte Joker 4-0 E ritengo Joker uno dei film con la migliore fotografia degli ultimi anni Pensate un po' di cosa stiamo parlando Poi... Il film... Ehm... Porta... In scena... Una... Un... Un tema... Già visto La guerra Un tema però meno visto Che è la prima guerra mondiale Che è... Dopo film sulla prima guerra mondiale Ce ne sono di meno Molti di meno rispetto alla seconda La seconda... C'è una seconda più commerciale Sì... C'è... Oxfam Ridge C'è un cattivo più visibile Esatto... C'è Ryan appunto C'è Fury C'è più un sacco di sfaccettature Ma se stiamo qua a dirli tutti Finiamo l'anno prossimo Ehm... Invece... Porteremo un film sulla prima guerra mondiale Così... Per la sequenza è molto più interessante Ma è soprattutto un film che... Sa far tutto Sa commuovere Io ho pianto in una scena Non ho nessun problema a dirlo Anche perché penso che Comuoversi per un film Penso sia una delle cose più normali del mondo Infatti io non ho nessun problema a dirlo Vi dico anche qual'era la scena E' la scena quando William Esce dalla trincea Sua Ehm... Che deve andare Dove c'è... Dove... Deve andare dal colonnello Mackenzie E consegnargli il... L'ordine di fallore Esatto... E allora esce dalla trincea E va nel territorio Tra l'ordine del nemico Dove ci sono le mine che esplodono E lì Dove i militari che corrono Lì Ho pianto Perché lì Ti fa capire cos'è la guerra Ehm... Tutti i militari Gente che piange Gente che non vuole partire Gente che ha... Gente... I militari che alzano gli altri Che sono appena caduti Lui che corre È disperato Perché ormai Lì ha detto Ormai E' andata Io se ne avevo fatto fin qua Se ce la faccio Bene Se non ce la faccio Non possono dire che non ci ho provato Perché aveva passato l'inferno in terra Ehm... E lì veramente E' una scena pazzesca Ehm... Poi... Ehm... 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 Diciamo che è il massimo dell'apoteosi cinematografica per chi guarda film Chi è appassionato di cinema in generale Se tu guardi 1917 con un occhio diciamo normale come guarderesti in qualsiasi film Ehm... E non si è appassionato Cioè... Se guarderesti un film la domenica pomeriggio Perché la serie A non c'è Ecco... Ehm... Ehm... Diciamo che magari non può trasmettere quello Che può trasmettere a uno che è appassionato Quello del discorso Poi... Cioè secondo me questo film intrattiene come pochi Perché già dall'inizio della primissima scena Ci sono dei problemi Già dall'inizio della scena Ci sono loro che devono Ehm... Che è una roba stupida Ma se ci pensi ti fai già capire che già dall'inizio Sono nella merda più totale Loro che devono andare per dirvi Controcorrente Tra... Quei militari... Inglesi scusate Ehm... Britannici Per essere corretti Per essere corretti Che vanno... Ehm... Nei dormitori Nei dormitori Nel senso che vanno dall'altra parte E loro che devono andare nel territorio nemico Ehm... Ehm... Appunto per uscire dal loro tricer Per andare nel territorio nemico Che vanno controcorrente E già lì capisci che Ehm... Ci sono dei grossi problemi Anche gli scontri Ehm... 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 Ti dice che il territorio è neutro Dopo c'è quell'altro che ti dice che il territorio non è neutro Ehm... Quindi tu ti dici i fatti se uno ci pensa il fatto del tarlo del dubbio è molto utile perché i tedeschi si vedono cioè praticamente se uno ci pensa il primo tedesco che vedi è quello nell'aereo che tra i due liti non era neanche lì è caduto lì ma non era lì non è che l'era aveva già caduto non è che l'era aveva già caduto il primo tedesco che vedi è quello nella casa che gli spara comunque è un film che intratiene come pochi ci sono un sacco di cose un sacco di punti spunti che ti fanno piacere questo film qua prima parte la tensione la seconda parte poi c'è anche qualche battuta in mezzo poi nei momenti dove non c'è azione ovviamente come nei film dove bisogna fare c'è la costruzione dei personaggi esempio stupido vi faccio solo questo esempio se non vi dico tutto il film quando arrivano nella casa di disabitato dove alla fine arriva l'aereo sono dei alberi di ciliegi e Tom dice spiega la storia di sua nonna di sua mamma di lui cosa faceva prima di andare a militare e lì ti dà la costruzione del personaggio che è molto importante in un film dove non puoi tornare nel passato dove non puoi fare vedere del flashback perché se tutti mi hanno seguito non puoi fare del freddo e quindi è molto importante fare queste piccole cose esatto fare queste piccole cose questi piccoli storielle che ti fanno capire un po' la storia dei personaggi che alla fine servono quella storia lì uno dice non serve niente perché alla fine allarme spoiler che questa recensione ci sono spoiler come in tutte Tom dieci minuti dopo muore però ti servono per la scena finale ricongiungimento William è fratello di Tom lì serve fidatevi che se non vi raccontare la storia lì non vi commoverate alla fine ve lo dico subito 100% è un film che ti mostra i danni della guerra non è importante che sia la prima guerra 103 anni fa o la seconda guerra 75 anni fa 70 anni fa 75 anni fa e ti fa capire i danni della guerra la paura dei militari la distruzione la sofferenza l'aiuto della gente comune per chi può la donna francese con il bambino che non è suo però è un bambino lo aiuti quindi ti fa ti da uno sguardo alla guerra che sia la prima la seconda o la terza che non dico niente è quella la sofferenza dei militari la paura la distruzione totale la città rovinata quella della scena che vi dicevo prima dal punto di vista diciamo militare quella della prima guerra mondiale era diciamo non diciamo più violenta molto più dura rispetto alla seconda perché comunque la guerra di trincetta si ruotava per 15 centimetri esatto un metro due metri sì ma era molto più violenta cioè nel senso violenta nel senso che bisognava vincere c'erano dei confini da guadagnare da vincere e non si facevano sconti a nessuno infatti c'è una scena quando sono in un camion dove dicevano che c'erano le mucche morte perché sennò tu le mangiavi quelle mucche lì quindi il fatto della guerra si sente molto anche per dirvi il fatto che Tom vuole aiutare una persona umana perché sta morendo il tedesco nell'aereo però dopo quella persona non è altrettanto caritatevole e my Tom ti saluta poi ecco la scena dove sono io che canto no la scena dove c'è il militare che canta lì è stata la scena dove ho avuto la peredocca per il periodo più lungo nella mia vita perché io ho avuto la peredocca da quando c'è William che cammina tra i cadavri della gente morta tra qualche fatica fino all'ultima nota dove c'è anzi agli applausi quando c'è il militare che capisce di cantare lì per tutta quella scena io ho avuto la peredocca perché lui che cammina e senti in lontananza una una canzone che è cantata in inglese non in tedesco quindi sai che è è tuo amico esatto e quindi con la le foglioline che cadono il vento lui che viene quasi trascinato da questa canzone lì ragazzi peredocca alta 160 metri lì commosso dopo ho pianto una scena allora una roba da dire questa è una cosa assolutamente personale io ritengo che questo film è super l'avete capito ma secondo me con un attore un po' più blasonato degli altri due che sono praticamente due attori emergenti George McKay e Dan Charles Chapman hanno fatto pochi altri film ritengo che con dei attori magari un po' più blasonati il film sarebbe stato ancora più epico adesso io non dico che doveva esserci DiCaprio e Brad Pitt comunque ci vorrebbero due attori abbastanza giovani sì adesso vi faccio degli esempi non è che dovrebbero esserci loro ma non so Andrew Garfield sto prendendo degli esempi come prototipo Aaron Eggert non so con attori magari un po' più Tom Holland no ma anche Tom Holland mi è titato che lui è anche inglese ci sarebbe stato con attori magari un po' più blasonati sarebbe stato ancora più che ti ricordi perché gli attori sono stati molto bravi soprattutto George McKay sono stati veramente molto bravi però di questo film non ti ricorderai delle recitazioni ti ricorderai della regia della fotografia del montaggio di tutto questo ma non ti ricordi non so se ti ricorderai delle recitazioni ripeto hanno fatto delle recitazioni pazzesche ma già vi faccio un esempio già il fatto che non sono stati candidati agli Oscar e neanche ai Golden Globe ti fa un po' capire certo quest'anno ai Golden Globe agli Oscar c'era un po' di concorrenza però ecco fa un po' capire questa cosa qua ecco io ripeto lo ritengo uno dei miei film dell'anno e se quest'anno porta a casa più di 5 Oscar anzi sarò anche contento dopo questo film qua la lotta come mio film si fa ancora più dura io non ho altro da dire spendo una parola per i due attori che conoscevi veramente cioè Colin Firth e Benedict Cumberbatch il colonnello del generale che hanno fatto spendo due parole mi sono piaciuti anche se hanno fatto una scena due minuti sì mi sono piaciuti tutti e due certo stiamo parlando di gente che ha vinto l'Oscar Ben Cumberbatch non lo so Colin Firth sono sicuro il discorso è da re però Ben Cumberbatch comunque hanno fatto delle interpretazioni belle poco ma comunque da una parte uno deve fare quello generale che vuole salvare dall'altra parte quello che vuole combattere vuole combattere ecco io non ho altro da dire cioè ragazzi quando si parla della perfezione non è che stiamo un po' tanto a discutere il mio voto è 9 9 ripeto solo per il fatto degli attori forse anche 10 se sono degli attori più carismatici ecco questa è la parola carismatici George McCain non è molto carismatico 9 cioè 9 comunque scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film pagina facebook qua il vostro voto pagina facebook più di Instagram iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata con i Saint Boys e il coronavirus 3, 2, 1 delete non so non lo so non so non so non so Grazie a tutti.